Ma come? Viene a Milano e non vai da Spoon a prendere il tiramisù da passeggio? Tu sei matto bello, tu sei matto di forza. Andiamo un po' che voglio vedere cos'è questo tiramisù da passeggio, sono proprio curioso. Caramello salato con le granelle sopra, veramente spacca, guardate il tuo caramello lì dietro ragazzi, veramente una cosa squisita, si sente il salato del caramello che è una roba incredibile, ha un retro gusto, impressionante, veramente veramente buono, strepitoso, eccellente, saporito, gustosissimo, spoon aggiudicato.